Cogna Acciai Speciali è uno stabilimento siderurdico suddiviso in tre macro aree, l'acciaieria, la linea laminati e la linea forgiati. Io sono il direttore della linea forgiati, qui ci troviamo in Fucina, che è il reparto che genera maggior valore sul prodotto che trasformiamo. La linea forgiati riceve il materiale dall'acciaieria, normalmente in lingotto, e lo trasforma sotto presse di grandi dimensioni e potenze nella forma desiderata dal cliente. Abbiamo deciso di acquistare questa pressa da 3.000 tonnellate con manipolatore combinato da 16 tonnellate dalle officine meccaniche Vecchiato, perché erano gli unici che ci garantivano la velocità e la quantità di colpi al minuto che cercavamo. Vecchiato Officine Meccaniche è una società a conduzione familiare fondata nel 1977. Vecchiato è una delle poche aziende che nel mondo è in grado di fornire l'intero impianto di forzatura sotto un unico punto di responsabilità e con un elevato livello di ottimizzazione del processo basato sulla propria automazione. L'impianto di Cogne rappresenta la sintesi di tutto il know-how vecchiato. Da punto di vista meccanico, la macchina vanta una concezione innovativa che riduce al minimo le masse in movimento e permette una ottima guida della RAM sia a freddo che a caldo. Questo consente di forzare ad alta velocità, in modo preciso, con consumi energetici contenuti, caratteristiche indispensabili oggi per la produzione competitiva di superleghe. Da punto di vista idraulico sono applicate tutte le soluzioni innovative, alcune brevettate, che basate su componentistica standard Bosch Rexro dell'ultima generazione, ci consentono una riduzione di oltre il 40% della potenza installata, degli ingombri e anche dei consumi degli impianti rispetto a soluzioni di mercato o parità di prestazioni. L'obiettivo di vecchiato era quello di ottenere un posizionamento preciso sulla rotazione della pinza del manipolatore in un tempo estremamente breve. La sfida tecnologica consiste nel fatto che l'inerzia della pinza è molto elevata e ciò rende il sistema poco smorzato con la conseguente generazione di ampie oscillazioni nell'intorno alla posizione comandata. Tramite simulazione software abbiamo identificato e riprodotto il fenomeno e quindi definito una soluzione di controllo avanzata per annullare le oscillazioni indesiderate. Infine abbiamo implementato la seduzione presso il cliente supportati da personale di grande esperienza e competenza, anche da remoto, raggiungendo le prestazioni richieste. Per migliorare la qualità del nostro materiale, così come la produttività, avevamo bisogno di elevata velocità. Grazie alle valvole e alla componentistica Bosch Rexroth siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Il risultato sul campo è stato addirittura migliore di quanto ci aspettavamo.